salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video grazie 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 oggi vediamo un pochettino da analizzare secondo me e soprattutto anche secondo voi ma chi vincerà questo benedetto scudetto c'è una bella lotta lì davanti ma secondo voi veramente solo l'inter e la juventus sono le candidate possono vincere questo scudetto io aspetto i vostri commenti ragazzi voglio sapere quello che pensate se realmente l'inter è arrivato se sono inarrivabili e per esempio milan e napoli sono ormai già tagliate fuori ma forse è un po presto siamo ancora nel giorno d'andata mancano tante partite c'è un mercato di mezzo che forse può o migliorare o addirittura peggiorare la situazione della rosa attuale quindi ci sono tanti fattori in gioco e tanto forse da una parte già squadre che si sono un po arrese giudici sono arrese tifosi che forse ci credono poco o altri invece che optano per possibilità l'intrusione visto anche visto il pareggio incastro del pareggio della juventus a genoa ok con 3.000 polemiche rigore non dato molti dicono partita già falsata campionato già falsato quindi anche su questo io chiamo in causa voi ragazzi abbiamo questo dibattito qui nei commenti qui sotto mi raccomando fatemi capire questa partita anche tra genoa e juventus che cosa è accaduto preciso spiegate bene quello che la juventus gli è stato tolto c'era questo rigore non c'era o addirittura i tifosi del genoma optano addirittura dicono che il genoma meritava la vittoria quindi c'è tutto da dire ma allora l'inter e la juventus quindi sono inarrivabili iniziamo a commentare a parlare dell'inter l'inter qualificata in champions con due turni in anticipo quindi già anche lì rosa che da molti addetti al lavori sembrerebbe molto superiore a tutte le restanti compagini del campionato di serie a addirittura superiore anche al napoli l'anno scorso che vinse lo scudetto con svariate giornate in anticipo e cosa è cambiato dopo la fine l'inter qualcosina cambiato ma l'ossatura della squadra è rimasta la stessa l'inter bene o male quest'anno sta subendo pochi gol e sappiamo benissimo chi ha una difesa di ferro ha più chance di vincere lo scudetto su questo purtroppo ci sono statistiche che nel corso degli anni vanno verso questa direzione quindi l'inter quest'anno sta subendo meno e negli anni passati la difesa veniva bucata molto più spesso a un centrocampo ormai rodato giocatori che giocano insieme già da svariati anni l'attacco quest'anno è stato cambiato con l'uscita di luca con l'inserimento di turam commessa vinta dalla società nero azzurra perché si è rivelato un calciatore veramente di altissimo livello quindi ottima scelta e non dimentichiamoci di del portiere sommer anche lui andò a sostituire uno nana che era un osannatissimo le ripose dell'inter che quando l'hanno perso erano tutti preoccupati di questa ricorda di questo portiere mi hanno detto di tutti i colori che non è vecchio che è uno scarto e invece sommer anche lui sarà cinesca sommer si sta tagliando sempre di più spazio e di nato un leader anche lui così lo amano tendo poi anche le prestazioni di onana manchester united ragazzi onana manchester sono disperati per tutti i soldi che hanno spesso per questo portiere che non imbrocca una ogni partita si aspettano sempre il peggio quindi bene o mai l'interesse fate un po insomma un riassunto della della formazione poi non dimentichiamoci poi la panchina dell'inter gente come rimane panchina come frattesi arnaldo sanchez sanno tantissimo comunque anche quadrato che ora si è infortunato e starà fuori per parecchio tempo anche lì in inter credo che al mercato generale qualcosa ha cercato di prendere perché lì sono un po scoperti l'arrivo di pavart nelle ultime ore di mercato un acquisto da 30 milioni un acquisto che molte squadre non si possono permettere anche dalla stessa juventus insomma attualmente quindi sappiamo insomma l'inter ha una rossa importante ha molti infortunati anche loro però i ricambi ce li ha e quindi può optare anche per far riposare i big fa giocare giocatori un po meno giù meno diciamo titolari quindi attualmente l'inter se abbiamo punto analizzare la formazione la sua rosa è molto forte la juventus meno male anche qui è la stessa da diversi anni a parte qualche piccolo cambiamento uea di turno un ritorno di mckenni però soprattutto li gatti o rugani insomma la rosa è quella da diversi anni danilo vedete alexandro scesli al centrocampo c'è sempre rabbiolo capelli anche lo stesso miletti che ormai sono già 23 anni lì l'attacco anche lì chiesa law which sono già da un po di tempo con la possibilità di ricambi come miric e king can quindi anche loro possono insomma far forza su quel cosa sul fatto che sono giocatori che giochi insieme da parecchio tempo con il loro allenatore che lì da parecchio tempo già e riconosce alla perfezione quindi ora quest'anno sembrerebbe l'anno buono per fare questa benetà l'incorso perché con tutte queste cose che si incastrano stanno un pochettino facendo nascondendo forse alcune mancanze nella rosa dovute a un mercato abbastanza deludente per via di tantissimi problemi economici che tutti voi sapete che sono successi anche l'anno prima e questo sta un pochettino aiutando la juventus a cercare di sopperire a queste cose e sta andando bene allora a trovare un amalgama nella rosa non adore che molto spesso è sempre odiato sempre criticato io sinceramente continuo invece a dire che al massimo allegri è un tecnico molto intelligente e lavora con quello che ha a disposizione perché lui la rosa la conosce bene conosce tutti i giocatori conosce di conoscessi insomma caratterialmente quindi sa come fa di rendere al massimo scusate a me sto letteralmente strozzando e tanti forse questo non si rendono conto perché gli allenatori a volte fanno scelte a volte un po strane ma come mai loro li vedono tutti i giorni i calciatori e a volte diventano anche un po psicologi cioè forse in quel momento un giocatore molto quotato non sta proprio fa testa dentro al campo per dare i problemi anche fuori al campo e appunto può inserire altro segnale che è bravissimo per queste cose lui sa sfruttare al massimo i suoi calciatori ha capito quest'anno che se vuole vincere lo scuetto vuole stare al passo con l'inter deve fare un determinato gioco che è abbastanza difensivista chiusi in difesa a volte anche i giocatori più di qualità sono costretti a rientrare nel reparto difensivo e quindi questo permette avere una specie di saracinesca anche qui una cassaforte un blocco un bullman come volete chiamarlo voi che arrivato subisca pochi gol infatti subisce veramente pochissimi pochissimi gol e anche questo sono allegri ci guarda moltissimo queste cose lui sa appunto che per rimanere sempre a quei livelli bisogna subire pochi gol e lo dice lo dice anche attualmente un allenatore che adesso mi arriveremo se vuoi mantenere un certo ritmo se vuoi mantenere una certa posizione non devi subire gol e questo che molti non lo capiscono molti pensano che iniziano le partite 10 a 4 o 4 a 3 o fare un 4 a 4 ecco tutto spettacolare ok però per vincere servono ovviamente i tre punti se li fai e mi ricordo quindi se vinci 1 a 0 a me che non ne vengo dalla squadra che non vince un cavolo da non vinto mai niente e se riusciamo a vincere 1 a 0 3 partite io sono contento cioè a me sì il bel gioco tutto bello e il caccio conta vincere ovviamente si dice che ho vinto 10 campionati 8 Champions League una stagione la posso pure mandare in vacca me butto sul bel gioco prendo ne so 8 gol a partita ne faccio 9 o in scena sono 10 a 10 per fare l'esempio più strano possibile ok ci può star ma quando tu non vinci niente adesso ormai sono già diversi anni che non vincere niente quest'anno forse veramente riuscirà a rimanere lì fino alla fine devi cercare un attimino di stemperare o di guardare più al solo insomma la consistenza quindi questa è la Juventus questa è la Juventus di Massimiliano League al terzo posto abbiamo il Minan di Pioli il Minan di Pioli è tutto un enigma che io qui invece non sono per niente un estimatore di Pioli lo conosco ormai da tantissimi anni so che è un tecnico che può fare fino a un certo punto lo vedo più adatto a squadre come il Sassuolo con tutto rispetto eh come il Sassuolo, come il Verona, come il Bologna, queste sono le sue realtà lui ha vinto uno squadetto al Milan è stato abbastanza abbasciato dalla fortuna da lì poi ha avuto sì secondi posti in piazza in dicembre no, in piazza in dicembre non si è niente proprio la vivendo sempre a Milan nel Champions League proprio niente Milan ha una formazione anche qui bene o male la difesa è rimasta tutta giù la stessa centrocampo ha avuto un tantissimo stravolgimento questo è stato un mercato paraonico ma paraonico ragazzi no più nel senso che sono stati top player sono arrivati i giocatori di altre squadre che non giocavano da 80 anni quindi sono stati presi a pezzo abbastanza di saldo e quindi è questo il problema il problema del Milan principale è che tutti gli anni si ritrovano con nonno Giroud in attacco che ormai ha i suoi annetti, i suoi acciacchi non riescono a trovargli un'altra punta vicino da poterlo inserire per dargli un cambio hanno il problema di Leao che Leao non segna mai Leao è un attaccante che è buono solo a chiedere l'ingaggi monster poi in campo, scema in campo segna gol veramente mi sembra l'ultimo gol che abbia segnato Leao proprio tutti gli infortuni che ha avuto è stato colpa di San Germano quello che si misere le mani anche lui vicino all'orecchio è tipico di tutti i calciatori egoisti è veramente di poca intelligenza perché tu sai che comunque lo stai facendo il tuo miglior campionato cerca di tenerti buoni tifosi non li fa scatenare tirandoti addosso di tutto quando sei in gol va di essere umi capire la situazione poi a fine anno si diranno le somme ma durante la stagione è veramente deludente perché Leao sta facendo una stagione deludente e lui lo sa quindi è inutile che fa finta di niente sta facendo una stagione deludente nonostante il rinnovo di contratto la cifra azoma importante di contratto dovrà diventare il volto del MIA tutti gli anni Leao si dovrebbe prendere in mano il MIA ma Leao il MIA non so prendeva manco per sbaglio e quindi Leao è stata una delusione tanti infortunati qui torna in gioco secondo me il tecnico che con le preparazioni estive è proprio pessimo uno scatafascio di infortuni e il MIA ovviamente quest'anno è veramente inattato all'indietro perché comunque l'Inter ha 38 punti il MIA attualmente ne ha 29 ma deve ancora giocare anche l'Inter deve giocare quindi deve iniziare a vincere ma a vincere partite tutte di seguito se vuole un pochettino riprendersi almeno al secondo posto deve iniziare a fare un pilotto alle vittorie e attualmente sembra abbastanza improbabile perché non è una squadra che ti dà una certa affidabilità velocemente passiamo anche al Napoli il Napoli appunto di Walter Mazzar Walterone che ieri l'ha spangata contro il Cagliari e l'ha faticata in mane 2 a 1 qui pure Walter Mazzar diceva in una conferenza stampa se vuoi testare a questi livelli a quella classifica lì devi subire pochissimi gol ma il Napoli di quest'anno sappiamo benissimo che la difesa è super perforabile quindi è molto difficile il Napoli sarà un campionato difficile a meno che a gennaio non intervenga sul mercato ma al mercato di gennaio dove trovi la difensione centrale che puoi metterlo lì accanto a Rachman lo stesso Acmani quest'anno non è l'anno scorso quindi poi togli che non c'è più Kim quindi la difesa va un po' a zonzo poi il centrocampo del Napoli è rimasto questo qui insomma lo Bocca anche chissà però non lo stanno rendendo soprattutto lo Bocca non è più quello che era con Luciano Spalletti un giocatore che era una roba impressionante riusciva a fare delle azioni riusciva a fare delle invenzioni di campo molto particolari gol poi sentiamo anche dei gol e riceve uno bellissimo triplando tantissimi giocatori e Napoli ha tanti tanti calciatori che non stanno rendendo ora vediamo se con questa vittoria di ieri comunque due protagonisti come Ozyman e Kvara Skadi sembrano essere un pochettino in ripresa se riuscirà un attimino a portare più gol e poi se Walter Mazzari riuscirà ad aggiustare un po' il reparto difensivo se riesce a dargli anche qui una continuità dei risultati perché se devi rimanere tra i primi quattro devi avere una continuità di vittorie che ti permetta di stare lassù perché se no le squadre dietro comunque anche con tutti i problemi che hanno possono raggiungerti e darti dei problemi quindi ci fermiamo qui al quarto polso perché meno male in questo momento sono queste qui le squadre che sembrerebbero più candidate alla lotta a scudetto se vuoi credete ci siano anche altre squadre sotto che possono inserirsi nel tempo fatemelo sapere vi ringrazio ragazzi di essere arrivati a vedere questo video fino a questa conclusione mi raccomando fatemi sapere tutto quello che voi pensate chi vincerà questo scudetto se le squadre che sono lì ce la faranno se verranno scavalcate appunto dal Milan o dal Napoli ci sarà un inserimento clamoroso dietro e noi ci vediamo a un mio prossimo video ciao ciao